Ciao a tutti ragazzi, eccoci in quel nuovo video, oggi andremo a parlare su una teoria di Vegapunk Questa teoria, anche come ho scritto nel sito dove l'ho riportata, non l'ho fatta io, ma l'ho presa da internet Però siccome la vedevo molto avvincente e rispecchiavo alcune mie idee, ho detto perché non farla conoscere alle persone che ci seguono E quindi sono qua a parlarvi di questa teoria Prima di andare a parlare di chi possa essere Vegapunk, andiamo a parlare un po' del suo passato Vegapunk nasce nel regno di Bargimona, nell'isola di Karakuri E sin da piccolo si dimostra molto abile nel creare oggetti e si dimostra molto intelligente Dopodichè viene a conoscere la famiglia Bsmoker, dove insieme al padre di Senji iniziano a fare degli studi su come poter clonare delle persone Viene catturato dalla marina e scende a patti con questa e quindi si mette a lavorare con la marina Due anni prima della narrazione, insieme a Caesar Clown, un altro scienziato, lavora a Punk Hazard Dove crea dei draghi, ma qualcosa va storto e tutto esplode Rendendo così l'isola inabitabile Dopodichè sappiamo che, prima del time skip, lavora sui pacifisti Che sono dei robot basati sul corpo di Orso Bartonomo e sui poteri del frutto di Gizaru Dopodichè non sappiamo quasi più niente Oltre a Vegapunk, conosciamo altri due scienziati, quindi, che sono Caesar Clown e Bsmoker Jaiji Ma oltre loro due, ne conosciamo altri due Uno di questi è Tutsukimi, che compare nelle mini-avventure di Ener Nel Dada Book, Green e Blue, conosciamo che Tutsukimi nasce anche lui nel regno di Bargimoa E' in un'isola vicino a quella di Vegapunk, quindi sicuramente, essendo tutti e due degli scienziati, si saranno conosciuti L'unico che non c'entra niente con Vegapunk è un altro scienziato, ma prima di andare a parlare di questo scienziato Dobbiamo fare, diciamo, un passo indietro Franky, dopo lo scontro con Orso Bartonomo, viene spedito nell'isola di Karakuri Quella in cui nacque Vegapunk Dopo essere inseguito da un'orda di animali, arriva nel laboratorio di Vegapunk Che distrugge, ma fortunatamente ne riesce a trovare un altro Dopo decide di passare i due anni là dentro Dove appunto vede tutte le sue ricerche e gli studi di Vegapunk Dopo i due anni che passa appunto in quest'isola, ci troviamo su Fisherman Island Dove Franky mostra le sue due nuove invenzioni Black Reno e Brauchio Tank Unit Dopodiché unisce queste due invenzioni per creare una ancora più grande Dicendoci che questa creazione è stata possibile grazie all'uso del Wapometal Che cos'è questo Wapometal? Il Wapometal è stato scoperto da Wapol, usando diciamo il suo frutto Che è un metallo che prende le semianze dell'oggetto in cui è messo Questo Wapometal Vegapunk non l'ha potuto usare Anche perché al suo tempo non lo conosceva E quindi Franky, vedendo i suoi progetti, grazie a questo nuovo metallo È riuscito a crearli Quindi una volta detto questo, vi posso dimostrare chi è Wapometal Ecco voi l'immagine Ora vi starete chiedendo ma cosa c'entra, cosa potrebbe essere? Intanto guardatelo, vediamo una persona con questo camice Che assomiglia molto a quello che vediamo di Vegapunk con il suo barzio Ma questo non potrebbe significare anche niente Visto che più o meno ha tutte le licenziate e tutta quella Ma vediamo anche la sua emozione nel vedere questo Wapometal Il metallo che a lui potrebbe servire per poter far diventare i suoi studi reali In più, Oda, in tutti i suoi databook ci dà i nomi delle persone che compagliono nell'SPS Ma dei suoi schizzi o comunque che compagliono in tutta la sua opera Tranne di questo personaggio Ma questo perché? Perché non ci poteva spoilerare che quella persona che era comparsa era Vegapunk Quindi questo è quello che dice la teoria e che io condivido pienamente Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra e ditemi se secondo voi questo potrebbe essere una giusta teoria Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!